Niccolò Varella, il famoso giocatore di calcio, rinnova il suo impegno, o meglio il suo contratto con l'Inter. Infatti è stato confermato di recente l'accordo per un prolungamento di contratto proprio di questo giocatore di calcio. Pensate infatti che rimarrà all'Inter, diciamo così, andando a rinnovare il suo eccellente contratto. Questo potrebbero essere circa 5 milioni di netti di euro a stagione, più i bonus, quelli che potrebbero andare nelle mani del buon Niccolò Varella. Lo stesso Varella si è detto soddisfatto, si è detto felice, contento di questo prolungamento del contratto di calcio, che ovviamente lo riguarda, e il contratto di calcistico, vi ricordo che lo riguarderà, con un legame fino all'anno 2026, quindi per 5 anni, rimarrà saldamente ancorato all'Inter. Complimenti, dunque a Niccolò Varella, complimenti vivissime, vivissime, congratulazioni sentite da Renato, narratore italiano, per l'impegno che andrà a promuovere e a produrre proprio all'Inter. Tanti auguri di buon lavoro a lui, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti.